Personale delle volanti è intervenuto in piazza Falcone Borsellino a Catania a seguito di una segnalazione di una rapina consumata ai danni di un cittadino marocchino da parte di un altro soggetto extracomunitario. Sul posto la vittima ha raccontato agli agenti di essere stato avvicinato da tre soggetti di sua conoscenza che hanno tentato di proporgli l'acquisto di alcune bottiglie di alcolici che gli stessi avrebbero rubato la sera precedente. Al suo netto rifiuto ne è scaturita un'accesa lite nel corso della quale uno dei tre soggetti ha preso una bottiglia e brandendola l'ha scagliata in pieno volto contro il cittadino marocchino. Nonostante la concitazione del momento il duro colpo ricevuto la vittima ha mantenuto una lucidità tale da permettergli di rendersi conto che uno dei tre malviventi prima di darsi alla fuga con i complici gli aveva sottratto il telefono cellulare. Non pago di quanto perpetrato uno dei tre è ritornato verso la vittima della rapina e lo ha colpito con un violento schiaffo al volto per poi raggiungere gli altri due complici. Il malcapitato ha quindi sporto denuncia contro i suoi aggressori fornendo delle descrizioni e dichiarandosi in grado di riconoscerli in fotografia. La vittima ha riconosciuto senza alcun dubbio tra le foto proposte dagli agenti uno dei suoi aggressori, un tunisino già noto per i suoi precedenti ed anche per il suo modus operandi. Proprio nella stessa mattinata infatti era stata perpetrata un'altra rapina ai danni di un cittadino bengalese aggredito da tre soggetti nordafricani che gli avevano sottratto il telefono cellulare e 500 euro in contanti. I poliziotti hanno quindi invitato il cittadino bengalese a presentarsi in questura per sottoporlo a individuazione fotografica e anche in questo caso è stato riconosciuto senza ombra di dubbio lo stesso soggetto, un cittadino tunisino. Il malvivente è stato quindi rintracciato in via Retusa, nascosto tra le auto parcheggiate nel tentativo di deludere il controllo e associato presso la casa circondariale di Piazza Lanza.